Silberto Pichetto, alla fine il centrodestra riesce ad avere la meglio sul Movimento 5 Stelle? Sì, è stato il photo finish, noi ci credevamo fin dall'inizio, ci credevo io, ci credeva la coalizione, anche se i sondaggi nelle ultime tre settimane ci davano distanti da questo risultato, e invece gli elettori ci hanno confermato un voto politico, ci hanno confermato la loro fiducia, certamente il centrodestra dovrà ripensarsi molto a partire da domani, sia a livello locale sia a livello nazionale, però l'obiettivo di rappresentare un'opposizione seria, rigorosa, maleale è stato raggiunto e noi in quel modo ci comporteremo. Senta Pichetto, prendendo spunto ad esempio anche dalle elezioni europee, l'Italia è andata controcorrente rispetto a gran parte dei paesi che è euroscetticismo e soprattutto centrodestra e le destre che hanno avuto la meglio sulla sinistra, qui in Italia invece è a livello di elezioni europee, a livello di regione, in pratica per quanto riguarda la vittoria non c'è stata storia? Io credo che a livello di regione ci sia stata un po' la coppia anche di un voto nazionale, infatti c'è una certa uniformità, lo dimostra il fatto che le preferenze sono molto basse per tutti i partiti, quindi è stato un voto molto politico sulla scia nazionale, la valutazione da farsi è sul voto nazionale, il voto nazionale che io ritengo sia stato quello di premiare le promesse, ma anche le promesse in campagna elettorale significano speranze di Renzi e del PD, naturalmente Renzi e il PD è adesso la responsabilità sia a livello nazionale che a livello locale di mantenere quel tipo di promesse. Ancora due domande, Assessore Pichetto e candidato Presidente Pichetto. Il centro-destra storicamente nelle altre province del Piemonte ha sempre avuto un vantaggio, oggi vince la regione il Presidente Chiamparino, c'è mica il rischio che abbiamo una regione poi torino-centrica, mentre effettivamente il Piemonte ha bisogno di una rivalutazione e di un sostegno dei cosiddetti territori variegati esterni delle province. Questo è stato uno dei motivi della mia campagna elettorale, su gran parte sulle sette province esterne, ma anche su tutto ciò che stava oltre la tangenziale di Torino. Io mi auguro e impegno l'opposizione a vigilare, naturalmente perché si eviti che Chiamparino possa, in antiché fare il Presidente del Piemonte e fare il secondo sindaco di Torino. Ultima veramente domanda, se lo chiede l'elettorato di centro-destra. C'è stata questa parentesi che ha visto che il centro-destra, se non è unito, non ottiene un risultato, o meno, ottiene un risultato che avrebbe potuto essere maggiore. Ecco, c'è la volontà adesso di un'opposizione, ma nello stesso tempo di riunire le forze del centro-destra. A cominciare anche dalla Lega, che effettivamente è stata anche una grande sorpresa di queste elezioni, e europee, e anche regionali. Sì, io me lo auguro, io sono sempre stato un fautore dell'unità. Se unità non si è fatta, non è stata fatta, non è stata certamente per non volontà da parte mia o da parte del Presidente Berlusconi. Devo dire che sono entrati in gioco valutazioni che riguardavano i livelli del quorum all'europea e altre valutazioni che hanno consigliato ad alcuni la corsa solitaria. Forse serviva anche questo bagno purtroppo non positivo per alcuni. Io personalmente sono spiaciuto che NCD abbia avuto un risultato così disastroso come quello che ha avuto, così come considero positivo che i Fratelli d'Italia siano riusciti almeno a salvare un consigliere. Ma tutto ciò deve insegnare a noi, a noi tutti, che dobbiamo avere un po' di modesti in più, un po' meno presunzione, mettersi a lavorare seriamente a quello che è un disegno politico, che deve essere regionale, ma dico anche un gran disegno politico nazionale dell'area liberale, dell'area cattolica, dell'area moderata italiana. Benissimo, ringraziamo il consigliere candidato Presidente Pichetto, primo degli sconfitti dietro Chiamparini. Pensiamo di aver concluso il nostro contributo di interviste in questa maratona elettorale del Consiglio regionale del Piemonte.